Buonasera ai nostri telespettatori, benvenuti all'appuntamento con il Fatto. È iniziata a tutti gli effetti la campagna elettorale in Abruzzo per le regionali del prossimo 10 marzo. Oggi c'è stata la convention di lancio della ricandidatura di Marco Marsiglio alla guida della coalizione del centrodestra e civica che sostiene il candidato, già presidente della regione Abruzzo, della coalizione e oggi abbiamo ospite in studio perché in questa regione per un nuovo tour elettorale, non è la prima volta in queste settimane che è dalle nostre parti, il senatore Maurizio Gasparri. Grazie. Grazie a voi per l'invito, ben ritrovati. Presidente del gruppo di Forza Italia a Palazzo Madama e soprattutto un uomo che decide le candidature almeno per quanto riguarda Forza Italia nelle realtà locali e anche per le regionali. Quindi è stato spesso anche nella fase di preparazione di questa campagna elettorale. L'Abruzzo adesso lo conosce molto capillarmente, soprattutto perché ha incontrato uno per uno tutti i candidati. Come sta facendo proprio in queste ore Gasparri? Sono stato molte volte, nel passato tantissime, ma anche in queste settimane abbiamo fatto numerosi incontri anche perché Forza Italia è impegnata anche nella campagna congressuale. Abbiamo tenuto i congressi nelle varie città, ho avuto la possibilità di partecipare ai congressi di Chieta e di Pescara e poi abbiamo il congresso nazionale il 23-24 febbraio a Roma, prima ancora delle elezioni abruzzese. Abbiamo liste molto competitive e devo dire che sono stato di frequente in Abruzzo nei mesi precedenti e anche in questi giorni perché noi che avevamo tre consiglieri regionali siamo arrivati alle elezioni con un gruppo nutritissimo di nove consiglieri regionali perché si è raccolto intorno a Forza Italia un blocco di donne e di uomini che con liste civiche e con altre esperienze hanno trovato nella proposta di Forza Italia un riferimento stabile e quindi contiamo su un risultato molto buono accanto alla presidenza di Marsilio che abbiamo sostenuto e che risosteniamo con convinzione, però pensiamo che Forza Italia in questa regione avrà risultato molto importante e quindi potrà nel governo del prossimo quinquennio dare un contributo significativo e siamo molto contenti perché vedete noi viviamo un momento particolare la scomparsa il 12 giugno del nostro leader ha colpito molto il nostro mondo Silvio Berlusconi è una personalità insostituibile, però come dico io anche il berlusconismo è insostituibile cioè quella proposta di un'area moderata, di un'area con cultura di governo tant'è vero che qui in Abruzzo in questi mesi siamo cresciuti, ci siamo radicati ancora di più e quindi se non c'è un leader che nessuno potrà mai eguagliare c'è quel messaggio, c'è quell'area politica, quel berlusconismo che può essere una risorsa fondamentale per il centro-destra, per le regioni e per l'Italia. Abruzzo diciamo regione cerniera, regione di frontiera tra centro e sud, anche dal punto di vista elettorale, mi riferisco proprio al dato delle politiche di Forza Italia, ormai di un anno fa, ma che comunque è l'ultimo che sicuramente segnala una forte presenza, come le diceva, del partito sul territorio, in proporzione uno dei più alti a livello nazionale. Devo dire che questo è merito anche del nostro movimento politico locale e quindi anche con le adesioni che ci sono state voglio ringraziare il coordinatore regionale Pagano e devo dire che anche la candidatura al Senato di Lorenzo Sospiri è stata fondamentale, non ha avuto il seggio per ragioni matematiche ma è stato un risultato molto rilevante. Del resto Lorenzo Sospiri, come altri, ha una lunga storia, ha fatto il Presidente del Consiglio regionale in questa legislatura, è un riferimento per l'intero territorio e anche il movimento corale del nostro movimento azzurro e anche quelle candidature e anche la sua presenza hanno determinato un bel risultato, che io penso ripeteremo alle regionali, poi le prossime politiche sono nel 2027, quindi Dio vedrà, ci sarà molto da fare. Poi ci sono le europee, ci sono le europee nel 2024, quest'anno, l'8 e il 9 giugno, visto che in Abruzzo già sono stati individuati i candidati di Forza Italia, che spesso ha avuto modo di incrociare la Presidente della Camera di Commercio, Ballone e Iannini, un imprenditore, quindi è un partito tonico, presente, dinamico e anche in queste ore con Lorenzo Sospiri abbiamo incontrato categorie, operatori. Abbiamo le comunali di Pescara, come non ricordarli, con l'amico Masci, che ha gestito con grande determinazione il Comune, non solo per l'attività quotidiana di gestione della città, ma anche dando un respiro culturale con tante iniziative che ho avuto modo anche di verificare partecipando a momenti importanti. Quindi devo dire che per Forza Italia questo quadrante è fondamentale, renderemo orgoglioso Silvio Berlusconi che ci guarderà dall'alto dei risultati che otterremo. Marco Marsilio, in Abruzzo non è stato mai rieletto un governatore uscente? Facciamo le scaravanzie? Guardi, le regioni sono sempre complicate, ricordo bene i precedenti, ma credo che Marsilio dimostrerà che ogni presunta regola ha la sua eccezione. Tra l'altro non ho ben chiaro lo schieramento avverso, non lo dico per supponenza. È un campo larghissimo. Sì, molto largo, però non vedo sfidanti. C'è da Conte a Renzi. Però non vedo, sinceramente, non bisogna mai dare per acquisiti risultati. Quindi Marsilio dovrà impegnarsi, lo sta facendo. Io conosco Marsilio da moltissimo tempo, Marsilio con radici abruzzesi, che poi lo hanno portato a tornare in questa sua terra. è stato impegnato anche molto nella politica giovanile, quando era ragazzo del centro-destra e della destra. Poi è cresciuto anche con incarichi a livello di comune, a livello di senato. Poi quando si è candidato alla presidenza dell'Abruzzo era già impegnato a livello molto importante. Ha dimostrato in questi cinque anni, credo, concretezza. Una regione poi chiamata a una prova del dopoterremoto che ancora, come dire, produce i suoi effetti negativi per i danni riportati, impegnativi per gli investimenti da governare. C'è stata un'attività importante con la ZES. Adesso la ZES è stata riformata dal governo che ha allargato a tutti i territori del Mezzogiorno una zona che deve godere di un trattamento particolare, ma già in Abruzzo questo si era verificato. Quindi ho toccato con mano concretezza. Quindi io penso che sfaterà questo tabù della non rielezione dei presidenti e lo farà anche grazie a Forza Italia che con tutti i nostri candidati. Io ho partecipato in questi giorni già a numerosi incontri con Febo piuttosto che con Sant'Angelo o Angelo Sante. Quindi abbiamo insomma tanti altri candidati. Donne, sono state a Sulmona. Ho visto i nostri candidati veramente circondati d'affetto, da attenzione a amministratori locali che sono cesi in campo. Credo che Marsilio ce la farà anche grazie al nostro apporto importante. Un tema che romperà inevitabilmente in questa campagna elettorale per le regionali è quello della riforma del rapporto Stato-Regione attraverso l'autonomia differenziata che le opposizioni sostengono sia stata barattata da Fratelli d'Italia con un assenso al premierato. È davvero così lei che vive questa vicenda in Parlamento? Guardi, questo tema gira nei dibattiti da decenni. La sinistra che oggi si lamenta dicendo bugie fece la riforma del titolo quinto della Costituzione con 3-4 voti di maggioranza lasciando le cose a metà. Poi ci si è misurati varie volte su riforme anche della Costituzione fatte sia dal centro-destra che dal centro-sinistra che poi nei referendum confermativi non hanno trovato il consenso popolare. Ora vedremo che cosa accadrà questa volta. Forza Italia è garante in questa legislatura di molte cose è garante del risparmio, è garante per la tutela della casa è garante che non ci saranno mai imposte patrimoniali è garante per quanto riguarda il mondo agricolo molto preoccupato in queste settimane anche l'Abruzzo da questo punto di vista è regione fondamentale affinché in Europa si ripetano alcune regole in questa funzione di garanzia che Forza Italia svolge la erogazione di risorse per i leppi livelli essenziali di prestazioni è stata introdotta nel testo dell'autonomia differenziale è stato ribadito e quindi questo livello di autonomia potrà partire se ci saranno risorse che consentano a un cittadino di Aosta un cittadino di Cogullo un cittadino di Penne o un cittadino di Cropalati in provincia di Cosenza di avere lo stesso livello di assistenza. Quindi l'avete affossata questa? Non l'avete affossata, l'accompagniamo a una garanzia poi tenga conto che in Italia c'è un problema di utilizzo delle risorse perché ci sono i fondi europei che storicamente in buona parte molte regioni non li hanno utilizzati e sono stati destinati soprattutto alle regioni del Mezzogiorno ora abbiamo i soldi del PNRR fu fatta una scelta di dare il 40% dei fondi del PNRR al Mezzogiorno che non ha il 40% del PIL quindi è stato dato, come posso dire, un surplus di risorse dopodiché è ovvio che il PNRR ci vuole poi il progetto del Comune l'intervento dell'ente locale per utilizzare i soldi adesso si usa questa espressione la messa a terra delle risorse a me non mi piace questa espressione però vuol dire utilizzarli l'utilizzazione dei fondi europei o dei fondi del PNRR dipende da un complesso di persone dipenderà dal sindaco di Catanzaro piuttosto che dall'assessore del Comune di Chieti quindi o dall'Europa si eroga i soldi per cui veda il discorso non è di affossare di far sì che oltre a chiedere i soldi li si utilizzi questa è stata fatta adesso la grande zestra di tutto il Mezzogiorno che vuol dire delle facilitazioni c'hai delle opportunità oltre a parlare male di quelli delle regioni storicamente più ricche facciamo noi che abbiamo radici e impegno nel Mezzogiorno sono romano ma la mia famiglia è campana quindi diciamo dobbiamo dimostrare di utilizzare le opportunità che ci sono e forse Italia è garante anche di una riforma del premierato che non stravolga l'assetto parlamentare della nostra Repubblica dal 94 la gente pensa che si elegga il Presidente del Consiglio Berlusconi c'è in campo il 26 gennaio del 94 71 giorni dopo lo sottolineo 71 giorni dopo ha vinto le elezioni e divenne Presidente del Consiglio poi ci furono varie manovre anche giudiziarie la gente dal 94 pensa che quando va a votare l'ultima volta pensava che se vinceva il centrodestra la Milonera ebbe fatto Presidente del Consiglio come è stato quando non ha vinto nessuno ci sono stati impicci, inguacchi, situazioni varie ma quando la gente poi ha votato nel 2001 e nel 2008 ha pensato ed è stato così che Berlusconi diventasse Presidente del Consiglio o Prodi a volte con risultati più contestati quindi noi adeguiamo in ritardo la Costituzione a un'elezione diretta del Presidente del Consiglio che nella coscienza popolare c'era 30 anni poi c'è un Presidente della Repubblica che ha una funzione di garanzia i cui poteri rimangono ma quando gli elettori dal 94 oggi hanno votato le ultime elezioni c'era il centrodestra si sapeva che il leader del partito con più consensi se avesse vinto il centrodestra avrebbe guidato il governo così è stato quindi è la Costituzione in ritardo non il popolo che sta avanti restando sul tema di Forza Italia garante anche della tenuta della coalizione in vista delle inevitabili fibrillazioni che si porranno anche sulla collocazione nelle grandi famiglie europee delle forze della coalizione Forza Italia è saldamente nel PPE Allora come in Italia Forza Italia, Fratelli d'Italia, La Lega e altri gruppi minori hanno una loro autonomia e identità ma sono alleati in Europa noi speriamo che si formi una coalizione di forze alternative alla sinistra Forza Italia sta nel partito popolare europeo una vasta area moderata che sicuramente sarà il governo dell'Europa perché sarà il perno dell'Europa e quindi quando noi diciamo ma lo diremo alle europee che votando Forza Italia si ha la garanzia di eleggere persone che saranno nella cabina di regia che riscriverà le norme sui pesticidi e l'agricoltura le direttive sulla casa le direttive sull'automobile che i socialisti hanno voluto scrivere con visioni molto ideologiche è ovvio che dobbiamo salvare l'ambiente ma dire che tra tre anni c'hai l'auto elettrica o che a spese tue devi coibentare la casa per avere meno dispersione di calore e meno emissioni di CO2 è utopia di evitare dei mezzi ai cittadini europei per poter adeguare le case fare una sorta di PNRR quindi noi vogliamo riscrivere questi piani e saremo nel PPE che farà parte di un'area di governo con chi si allera il partito popolare europeo che sarà il primo gruppo europeo moderato e alternativa alla sinistra con i conservatori si può alleare con altri gruppi noi con la Lega e Fratelli d'Italia non abbiamo problema a essere alleati in Europa il tema è i gruppi dove sono non tanto Fratelli d'Italia quanto la Lega Fratelli d'Italia è nel gruppo dei conservatori europei quello che fu fondato dalla TAC quindi è un gruppo assolutamente compatibile nell'alleanza la Salvini lo è però all'interno del suo gruppo ci sono i lepenisti e dei gruppi di alternative for Deutschland tedeschi che sono molto estremisti noi vogliamo un'alleanza alternativa alla sinistra ma compatibile con un quadro democratico europeista se poi la Le Pen dice l'Europa non ci deve essere l'euro lo buttiamo a mare e allora è come il suo ministro in una televisione poi le televisioni non devono esistere chiudiamole e lei giustamente direbbe che ci sei venuto a fare quindi il problema non è nostro è degli altri ognuno poi all'europea corre con la legge proporzionale per sé votando Forza Italia si saprà che si vota per un partito che col Partito Popolare avrà la penna in mano per scrivere una penna tricolore per scrivere le regole europee in favore dei cittadini europei e le ricordo infine che Tajani fu eletto Presidente del Parlamento Europeo contro un candidato socialista quindi con uno schieramento alternativo il tema poi è nelle mani degli elettori se daranno una maggioranza uno schieramento alternativo alla sinistra e però inquadrato in un'ottica di valori democratici e liberali siccome votano 27 paesi e adesso fare una previsione è complicato lei è preoccupato anche dell'escalation della protesta degli agricoltori e anche delle ripercussioni politiche nella maggioranza sono preoccupato perché è un settore che soffre lei ricorderà che ci furono i forconi che ci fu tutta la protesta per le quote latte che gli coltivatori gli allevatori sardi buttavano il latte per strada perché non era remunerativo il prezzo quindi l'agricoltura ogni X anni esplode in una protesta derivante da che cosa una volta l'olio africano contrabandato per olio italiano cambiano il marchio una volta arrivano prodotti contraffatti dalla Cina una volta l'Europa non eroga bene i soldi quindi noi abbiamo un obiettivo concreto rivedere la normativa sull'IRPEF in questo momento e chiedere all'Europa un intervento diverso sui pesticidi noi vogliamo un prodotto più sano e più integro però ci vogliono delle regole spalmate nel tempo quindi abbiamo ascoltato l'ha fatto il governo nelle ultime ore le organizzazioni agricole che sono state scavalcate anche loro da un movimento di base però l'agricoltura è un settore in sofferenza perché spesso il prezzo del prodotto pagato al produttore all'allevatore all'agricoltore è X poi sto prezzo il trasporto il gasolio la benzina eccetera uno si ritrova l'agricoltore che va poi a comprare un prodotto dei prezzi elevati quindi questo divario di prezzi prezzo finale al consumatore prezzo pagato al produttore resta una forbice non risolta che va affrontata quindi ascoltiamo un settore che soffre non da oggi e che però è fondamentale se no che ci mangiamo come campiamo il settore primario si chiama perché noi potremmo fare a meno di un telefonino più moderno non possiamo fare a meno di un cibo sano anche per il suo ruolo di commissione di vigilanza è intervenuto più volte in questi giorni su Sanremo non sono mancati gli spunti a partire da quello delle scarpe porterà qualcosa anche in commissione di vigilanza quando ci saranno le relative audizioni le spiego la RAI con il festival di Sanremo che è una forte audience ha raccolto 60 milioni di euro di pubblicità perché è l'evento dell'anno e quindi fanno cassa non è che poi la settimana prossima incasseranno la stessa cifra allora lo spazio pubblicitario del festival vale molto e quindi non lo puoi fare occupare se così è stato da un grande attore che viene con le scarpe col marchio il produttore stava in sala dicono che sia stato di un milione il valore poi le inquadrature quello ha fatto il ballo con i piedi cioè non è che sono cose casuali perché così si doveva inquadrare il marchio bastava coprire il marchio quindi qualcuno deve rispondere la RAI ha detto di essere stata truffata ora io francamente poi la cosa strana è che a Medeus la mattina parlando ha detto don't worry be happy una frase americana dalla serie inglese non ti arrabbiare sii felice frase che si usa è un proverbio ecco non italiano guarda caso sul sito di questa marca di scarpe quello è lo slogan dell'azienda a me viene difficile immaginare che lo stesso giorno un grande conduttore usi quella frase che essendo poi di importazione non è che uno ha detto boh la frase il proverbio italiano tanto va la gatta all'ardo che ci lascia lo zampino c'è qualcosa che non quadra poi se non è stata truffata cioè abuso occupazione di uno spazio pubblicitario qualcuno si deve tutelare e siccome la RAI chiede i soldi ai cittadini col canone o allo Stato e voi lo sapete quanta fatica dovete fare voi che vivete sul territorio allora non puoi fare rubare uno spazio pubblicitario andremo in fondo per capire è stato John Travolta il produttore di scarpe che ha fatto una cosa scorretta la RAI non ha controllato l'anno scorso la RAI per una cosa analoga perché la Ferragni ed altri usavano immagini di backstage di retroscena usavano propagandari social la RAI si è beccata una multa di 160.000 euro che dovrebbero pagarla a Medeus e i conduttori non i cittadini che pagano il canone siccome immagino che l'antitrust e l'agico controlleranno questa possibile pubblicità non pagata e a un certo punto come dire prima ho mostrato una penna di colore però è la penna dell'arma dei carabinieri quindi voglio dire non è un prodotto commerciale siamo a riparo noi di rete 8 da questa cosa è una penna dei carabinieri gadget al netto della delusione per il pessimo risultato dei ricchi e poveri però c'è un risultato indiscutibile sui dati d'ascolto riguardante Amadeus e Fiorello però vanno via poi tra quelli dicono che vanno via poi bis tris poi gli è un problema commerciale può dar sicuro quando ha avuto un grande successo è atto di intelligenza dire faccio un'altra cosa perché ripetersi su certi livelli è complicato tanto Amadeus non è che sono disoccupati Fiorello è braccato dalla Rai perché genera ascolti quindi gli affiderebbero pure il telegiornale dalla Rai però proprio questi numeri di successo e di audience fanno emergere questo fatto che essendo il più grande evento televisivo dell'anno per la Rai non va svenduto ha prodotto 60 milioni di euro di pubblicità che dei marchi delle ditte pagano non è una tassa sui cittadini pagherà l'acqua minerale pagherà i gelati non ho preso nota di quali spot andassero in onda se quello è andato con le scarpe dovevi pagare chi non l'ha controllato è stato ingenuo e chi si è approfittato quindi se sono stati truffati li denunceranno vediamo la cosa proseguirà perché può sembrare strano è un valore cioè del resto siamo in una televisione la pubblicità è un valore non è che si regala c'è un grande tema appunto che investe l'editoria sul quale lei è intervenuto recentemente che riguarda la pubblicità delle pubbliche amministrazioni che serve per far vivere le testate e dare loro anche una nobile funzione è quella di comunicare ciò che le pubbliche amministrazioni mettono in gara così chi vuole partecipare a una gara ha un'informazione dall'informazione di territorio qual è il rischio per questa situazione? guardi è stato deciso di mettere su un sito questi bandi di gara questo sito non funziona l'ha detto l'autorità anticorruzione e allora io dico perché non lasciare sull'emittenza locale sulle testate locali sui giornali locali la pubblicità il comune di Chiedi il comune di Pescara il comune dell'Aquila fa un bando di gara allora chi deve partecipare come fa a sapere i criteri i prezzi i valori le regole l'azienda che partecipa che caratteristiche deve avere dal bando di gara se questo sito non funziona se sarà il rischio di ricorsi perché va la ditta X dirà ma io non ho potuto partecipare perché il sito era bloccato perché io ho l'azienda in un comune piccolo e la banda larga quel giorno non funzionava pubblicarlo su degli organi di informazione locale dà alimento anche a questi organi parliamoci chiaro perché poi c'è anche un provento e c'è maggiore trasparenza perché poi insomma quel giornale con l'informazione locale comunque esiste c'è e quindi è fisicamente individuabile poi un domani saremo tutti diventeremo dei bit diventeremo dell'intelligenza artificiale perché ci sono gli umani i giornali l'informazione locale salvaguardiamola è anche una distribuzione più equa delle risorse comunicative pubblicitarie e tanti grandi la Rai e c'ha tanti di quei proventi che si è fatta fregare la pubblicità delle scarpe sotto il naso gratis bene grazie come sempre pungente Maurizio Gasparri grazie per aver accolto il nostro invito e naturalmente buon proseguimento di serata a lei e ai nostri tre spettatori arrivederci grazie